Suor Maria Laura Mainetti, la religiosa nata a Colico nel 1939 e assassinata al 6 giugno 2000 a Chiavenna, per mano di tre giovani ragazze, verrà beatificata a 21 anni esatti dalla morte, domenica 6 giugno. Un evento che Espansione TV seguirà da vicino, trasmettendo in diretta la cerimonia in programma al campo sportivo comunale di Chiavenna. Una troupe con la giornalista Elisa Santamaria seguirà la celebrazione sul posto e realizzerà dei collegamenti in diretta, mentre nello studio centrale di ETV la conduzione sarà curata da Michela Vitale e Paolo Bustaffa, già direttore del Servizio Informazione Religiosa, che proporranno a partire dalle 15.30 un approfondimento con un mini documentario sulla cronaca del delitto e alcune testimonianze di chi ha conosciuto Suor Maria Laura e ne ha apprezzato l'opera, accompagnando poi i telespettatori con spiegazioni e commenti nel corso della cerimonia che inizierà alle ore 16. Il rito di beatificazione sarà presieduto dal prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, e concelebrato dal vescovo della diocesi di Como, Monsignor Oscar Cantoni, e da decine di presuli e sacerdoti. Dalle ore 13.30 è prevista la possibilità di accedere all'area della cerimonia, ma la partecipazione nel rispetto delle norme anticontagio sarà possibile solo per le persone scritte entro i termini e munite di apposito pass. Espansione TV in collaborazione con la diocesi di Como porterà nelle case di tutti i lombardi il ricordo, il messaggio e l'eredità di Suor Maria Laura Mainetti. L'appuntamento è dunque per domenica alle 15.30 in diretta da Chiavenna su ETV.